Ascolta, Sultan vuole vederti. Tuttavia, questa missione può essere aiutando i banditi oppure aiutando gli Storker. In entrambi i casi si passa alla stessa missione successiva, solo che si avrà una piccola differenza nella... vabbè, oltre al tipo di alleati, ci avrà una differenza nel progredire della situazione e soprattutto cambierà leggermente il finale. Il finale non è nient'altro che un video in stile Fallout in cui c'è più o meno un riepilogo di tutto quello che è successo. Quindi, non è che ci sia proprio un finale multiplo, però permette la... di progredire in una storia futura che... con possibilità diversa. Detto questo, andremo a parlare con Sultan. Ma allora? Sei riuscito a trascinarti fin qui, eh? ... 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 Grazie a tutti. Gli daremo una buona lezione. Ehi, cosa sta succedendo? Ma amico, cerca di calmarti. Non correremo rischi. Ehi, cosa sta succedendo? Non riusciamo. Non riusciamo. Non riusciamo. Non riusciamo. Ma amico, che sono i non mi sono più di più. no che vediamo ancora per garantia grazie a tutti sono stati non è vero non è vero che è stato un po' 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 che c'è stato un po' che c'è stato un po' che c'è stato un po' e o'ccliente e non a funerá la storia che sta per la lettera per tutta che incontrano Non c'è più di bambi, perché le persone le persone spettano le persone con le bambini. Opiare le cose cose che sono fissi. Che ne sono veramente assi? Per un'è 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 un'è. Posso dire che rimane uscire l'asciuto. Puoi uscire il nuovo tablare come uscire. Aspetta qui non mi ha fatto la logica. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, come va? Vedremo che si può fare. Spero che non ci sono troppi problemi. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Non so farò che non so farò, non so farò che non so farò. Mujerci, suda! Urucate! Кто-нибудь! Mujerci, suda! Sì Parla con il capo. Si, si vedo. Si, ascolto. Eee, calma. Iniziamo a direcciare il piano. 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 Ciao, caro. E' uno spot 12. Mi piace. E' uno spot 97. Iniziamo a direcciare il piano. come shall we? ooooh mi ha fatto un'arco balanza non dormo non dormo non dormo uuuu 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 più avanti si troverà anche lo striper e quello quello è una bestia di pc uuuu 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 sono tutto orecchie benvenuto Lo troppo. Fatti vivo se scopri qualcosa di interessante. Tanto la scadova ... Scusami un po' di più. Ricordavo male. E cosa sei? E' 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 E E' 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 Sì, che c'è un po' che c'è un po' che c'è? Bene, io vorrei di concludere con il potenziamento delle armi. Salve! 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 Olene con cellulare! Etc di one legunda, un塩bormumberoso port raus? Tenete, quando rigorete una nuova manca capirete tutto, potreste già venderlo a home, ma ci vedo anche che veramente lo rischio di più di più di più di più di più. Grazie per la visione!